La notizia era attesa ed è arrivata. La Guardia di Finanza di Bari ha notificato la custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Marco e Gianluca Iacobini, padre e figlio, il primo ex presidente del CDA e amministratore di fatto della Banca Popolare di Bari per oltre 40 anni, e il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell'Istituto di Credito del Mezzogiorno. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Oltre ai due Iacobini sono altre dieci le persone indagate nel crack della Banca e per l'ex amministratore delegato Vincenzo De Bustis Figarola, che risponde di un episodio di falso in bilancio e di falso in prospetto, è stata disposta all'interdizione ad esercitare per 12 mesi l'attività di dirigente di istituti bancari e di uffici direttivi di imprese. Agli arresti domiciliari è finito anche lì a Circelli, accusato di un episodio di falso in bilancio e falso in prospetto, tuttora responsabile della funzione bilancio e amministrazione della direzione Operations della Popolare di Bari. I giudici di Bari stanno indagando a tutto campo anche sull'acquisizione di Tercas nel 2015, avvenuta con la benedizione della Banca d'Italia. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti però ci sono soprattutto i finanziamenti baciati, ovvero prestiti concessi alla clientela in cambio di azioni della stessa banca. La concessione di prestiti a imprese con alti profili di rischio, la profilatura non veritiera dei clienti per vendere obbligazioni subordinate. Ci sono banche quotate e ci sono banche non quotate. Nel caso delle banche quotate sui mercati principali poter vendere il proprio investimento anche a costo di perdite è relativamente facile. Nel caso delle banche non quotate fidarsi delle promesse del management che senza mai firmare nulla si impegna a riacquistare il titolo e a fornire liquidità è evidentemente un comportamento incauto. Il faro degli inquirenti riguarda dunque anche le presunte truffe perpretate ai danni dei piccoli azionisti, che sarebbero stati dissolti dall'investimento in buoni del tesoro dai dirigenti dell'istituto, i quali assicuravano che le azioni della Banca Popolare di Bari erano prive di rischio. Un'operazione, si ipotizza, che sarebbe servita a rafforzare il capitale sociale per 135 milioni di euro. Nonostante le accuse pesanti ed una banca che è stata salvata solo grazie all'intervento dello Stato, Marco Iacobini si vedeva riconoscere un compenso di oltre 3 milioni di euro, mentre i figli Gianluca, codirettore generale, e Luigi, vice direttore generale, incassavano rispettivamente quasi 345 mila e oltre 360 mila euro.